allora l'obiettivo di queste due ore scarse è fare un veloce overview vi spiego un po qual è il mio lavoro brevemente non tanto per perché possa interessarvi in senso assoluto perché in senso relativo questo secondo me vi aiuta a capire anche un po come potete voi stessi lavorare sui brief che in parte avete ricevuto e che in parte vi vi darò diciamo nel corso di queste due ore l'obiettivo è come sostanzialmente zodiac active chi siamo e cosa facciamo fare una veloce escursus sulle brand in generale intese come macro categoria perché spesso pensiamo di conoscerle ma in realtà spesso ci sono sconosciute e spesso lavorare su dei progetti per le brand può permettere alle marche stesse di capire di più su quello che sono e su dove devono andare poi velocemente facciamo un ragionamento sullo scenario di mercato e arriviamo appunto al branded content come si fa e perché il work in progress dal brief all'execution abbiamo in realtà già in parte ragionato sia parlando di come vogliamo uscire in termini di output con una presentazione prima un vostro uno dei ragazzi mi chiedeva cosa mi aspetto la modalità classica con cui normalmente si esce verso i clienti è un powerpoint quindi un powerpoint il powerpoint come caratterizzazione normalmente è un documento più mostrato che scritto quindi dove le immagini e riferimenti video in qualche maniera sono superiori come importanza al testo questo non vuol dire che non si deve scrivere però diciamo si cerca di tenere la parte testuale al minimo si cerca di tenerla sempre con una dimensione funzionale barra emozionale e nel momento in cui esistono dei documenti un po più diffusivi microsceneggiature plot soggetti magari si allegano nella forma del word mettendo in appendice una nota poi ognuno lo personalizza e quindi ogni gruppo lo personalizzerà a proprio uso e consumo diciamo che l'obiettivo finale è avere due powerpoint uno per il brief commerciale l'altro per il brief ong sociale dove vi siano quattro macro diciamo capitoli che sono quelli che abbiamo individuato come inquadramento strategico esposizione delle idee creative distribuzione dei contenuti quindi channel strategy e link integrazione col prodotto o col brand questa era una cosa che volevo dirvi stamattina ma adesso è troppo tardi nel senso che siete anche troppo bravi quindi l'idea era quella di non fare una lezione frontale ma fare una lezione interattiva quindi e soprattutto non fermarsi alla teoria ma cercare di andare alla pratica visto che siete un gruppo molto interattivo tutto questo passa oltre velocemente cos'è zodiac active zodiac active è la divisione globale quindi sostanzialmente l'azienda che per tutto il mondo lavora sulle cose che state vedendo e su cui state iniziando a lavorare quindi lavora nel campo del digital e del branded content dentro il gruppo zodiac media cos'è il gruppo zodiac media è un holding di circa 45 società come vedete eccolo qui zodiac media è come vedete nella business unit media in communication del gruppo di agostini quindi di agostini cosa cosa ha fatto ve la faccio abbastanza breve nel 2007 ha dismesso tutta una serie di partecipazioni considerate non strategiche all'interno del proprio portfolio e ha deciso di entrare a pieno titolo nel mondo delle telecomunicazioni aveva due scelte comprare una televisione o costruirsi come content provider ha anche comprato una televisione per come vedete in spagna ha comprato antena 3 in italia e in generale nel mondo ha deciso di costruire un gruppo di fare shopping scegliendo le migliori case di produzione televisive presenti al momento diciamo sul mercato e disponibili costituendosi come un gruppo il terzo gruppo mondiale come vedete questo è il il percorso dal 2007 ad oggi quindi shopping primo momento di shopping nel 2007 con l'acquisizione di due grandi società di produzione in italia e in francia magnolia e marathon poi l'acquisizione di una terza grande casa di produzione svedese zodiac tv la decisione di far diventare zodiac non solo il nome di una società di produzione ma il nome di un gruppo e progressivamente l'ampliamento di questo portfolio di società con il grosso punto di passaggio che è quello dell'acquisizione completa nel 2010 di rdf media che è un grosso gruppo di comunicazione molto forte in due mercati dove zodiac non era ancora abbastanza forte che sono due mercati banalmente strategici per potersi configurare e definire come un gruppo mondiale cioè uk e gli stati uniti questo è una veloce overview di quelli che sono i grandi player sul mercato internazionale come vedete zodiac in termini di fatturato e di volume è al terzo posto dopo endemol e freemantle in realtà come vedete la differenza in termini di fatturato non è immediatamente specchio della differenza in termini di produzione perché come vedete in termini di ore prodotte zodiac in realtà tallona abbastanza da vicino sia freemantle che endemol in termini di fatturato come vedete la differenza è ancora di un certo livello a noi piace dire sia a livello internazionale che livello italiano che a livello internazionale siamo il terzo gruppo ma siamo i primi indipendenti a livello italiano siamo il secondo gruppo perché freemantle in italia è più piccola di zodiac ma il primo il primo gruppo indipendente cosa vuol dire indipendente vuol dire che rispetto a freemantle è rifatto e rispetto ad endemol noi non siamo partecipati da nessuna gruppo televisivo endemol è partecipato da mediaset freemantle è partecipato da rtl da in parte da bertelsmann cosa vuol dire vuol dire che sostanzialmente possiamo lavorare per tutti senza esclusione da un punto di vista diciamo della proprietà che ci impedisce di lavorare con potenziali concorrenti quindi siamo chiamiamolo così come esistono gli editori puri esistono i content provider puri siamo il primo content provider puro in italia e a livello internazionale come fatturato i mondi di zodiac active come vi dicevo all'inizio la logica è quella di lavorare sul contenuto content provider cosa vuol dire vuol dire avere delle persone che di giorno in giorno ragionano su quelle che sono le idee che possono funzionare la differenza tra zodiac active e una normale casa di produzione televisiva è molto semplice mentre le case di produzione televisiva pensano a dei format delle idee che possono stare in televisione noi pensiamo a dei format delle idee che possono stare anche in televisione ma non esclusivamente in televisione e quindi che possano interessare tutte le piattaforme internamente per questo siamo organizzati in tre divisioni che colloquiano ovviamente l'una con l'altra una che si chiama media che è dedicata specificatamente alla produzione televisiva l'altra che si chiama audience advertising che è dedicata all'ambito mobile e all'ambito diciamo più legato alla compravendita di spazi pubblicitari e la terza che si chiama brands che è organizzata diciamo più classicamente come un'agenzia di comunicazione ed è l'interfaccia rispetto al mondo delle marche in termini di fatturato le tre aree più o meno come vedete si equivalgono e quindi esiste un equilibrio di fatturato che si traduce anche in un ottimo equilibrio in termini di comunicazione interna un po di cose che abbiamo fatto e facciamo lo vedete al di soliti idioti o il mostro mega fabbriche milano sitati da tu clio make up allora come vedete da questa da questa slide che ovviamente riassume solo una parte dei programmi che negli ultimi due anni abbiamo fatto mi interessa affermare un principio cui parlavo con alcuni di voi prima a pranzo c'è una convergenza tra quello che noi facciamo e quello che le televisioni vogliono e questo ci ha permesso negli ultimi anni se dio vuole di incrementare il fatturato cosa significa significa che in televisione da un lato ci sono sempre meno soldi il budget di prima serata di italia 1 in 5 anni medio è passato da circa 250 mila euro a 90 60 90 mila euro per questo in prima serata 5 anni fa trovavate i classici show in studio varietà eccetera adesso trovate wild che con tutto il rispetto è un programma che in termini tecnico si chiama aggregato null'altro se non uno studio di continuità da cui si lanciano dei contenuti o mistero si lanciano dei contenuti che hanno un fil rouge ma sostanzialmente di produzione c'è poca c'è lo studio e molta acquisizione di materiale quindi anche la televisione generalista si sta spostando e soprattutto stanno arrivando dal basso tutta una serie di televisioni che una volta si chiamavano tematiche ora si chiamano mini generaliste ma in realtà sono televisioni come real time come di max come a suo modo cielo come a suo modo dj tv che come al loro modo mtv che hanno un'identità forte e cercano di svilupparla attraverso dei linguaggi che sono estremamente codificati e forti quindi la sitcom molto forte e dissacrante un nuovo modo di fare racconto della realtà ad esempio milano city tattoo che a secondo dei punti di vista può essere vista o come un documentario evoluto o come un factual che racconta la vita effettiva di uno studio di tatuaggi più importante studio di tatuaggi di milano oppure clio make up dove la dimensione del factual si si schiaccia in qualche maniera sul vero e proprio auto cioè ti insegno come truccarti ti insegno come cucinare sino appunto a dei a delle dimensioni più larghe che possono essere voglio vivere così che è andato in onda su cielo o living in america che costituiscono una reinterpretazione moderna del classico tra virgolette documentario di viaggio queste sono le produzioni diciamo che recentemente abbiamo fatto e che sono state quelle di maggiore successo diciamo che la cosa buona è che sul mondo real time che è il mondo che più funziona adesso in termini di linguaggio e in termini di ascolti e in termini di permanenza di target i tre programmi che hanno il migliore ascolto che sono re del cioccolato torte in corso con renato e cleo make up li produciamo noi al nostro interno torniamo al termine dei brand quindi questa è la come dicono quelli che parlano bene la mission sostanzialmente del nostro lavoro quindi cerchiamo di accompagnare marche globali intese non solo in termini chiamiamoli di estensione quindi multinazionali ma in termini di pensiero e di visione gente che vuole guardare oltre il semplice advertising cioè noi facciamo anche spot ma lo spot non è non è il nostro core business il nostro core business è costruire dei progetti di comunicazione che traducano in un powerpoint detto male in una strategia detto bene la convergenza che già tutti noi viviamo tra brand contenuti e media digitali quindi progetti di comunicazione che vadano siano il più possibile diffondibili su tv web e mobile quindi che non dipendano dalla piattaforma ma guidino la strategia di piattaforma attraverso un'idea di brand entertainment e quindi uno storytelling di marca basato su un'idea forte qui vi faccio vedere più o meno i marchi con cui lavoriamo la cosa interessante poi alla fine del seminario vi lascerò anche la presentazione però mi interessano queste case su cui noi lavoriamo più che altro collegato al vostro work in progress perché qui trovate ad esempio progetti di diverso tipo Barilla Center for Food and Nutrition è un progetto molto alto è un progetto corporate quindi è un progetto con cui Barilla non comunica tanto cos'è come pasta come prodotto ma cos'è come aziende come valori è un progetto molto alto con cui loro cercano di distribuire a livello mondiale la cultura del cibo del buon mangiare del buon cibo del non non tanto in termini appunto culinari ma in termini valoriali cosa è importante capire è importante capire che spesso dietro una marca che noi conosciamo solo per il servizio o solo per il prodotto ci può essere un mondo di valori che in alcuni casi diventano l'asset di comunicazione questo è sempre vero ad esempio nell'ambito social dove nel momento in cui un'azienda lavora con le persone con il bene delle persone con il benessere delle persone ovviamente la dimensione del servizio del prodotto e la dimensione valoriale sono sempre stanno sempre insieme nel caso di prodotti di largo consumo come Barilla come altre aziende questo non è sempre vero ma quando avviene è il momento in cui riusciamo a lavorare sulle forme di comunicazione più alte e più estese vado velocemente sulle prossime slide perché mi interessa arrivare al secondo punto che sono il tema delle brand allora la cosa più importante che secondo me dovete portarvi a casa da queste giornate che vi deve aiutare a lavorare nei prossimi 15-30 giorni è una cosa in realtà molto semplice tutte le marche hanno delle storie interessanti e spesso sconosciute o non completamente conosciute da raccontare il nostro compito è andare a scovarle e farle diventare interessanti per le persone in fondo anche uno spot è una storia raccontata attraverso delle persone ma la differenza quando si fa branded content è che non esiste quella dimensione di costruire un mondo perfetto come è nello spot, lo spot è il mondo ideale della marca il branded content lavora su un'altra cosa, sul mondo reale della marca e quindi cerca di raccontare delle cose che effettivamente la marca fa e che vanno semplicemente costruite, riprese e sviluppate con uno storytelling intelligente quindi scusate il riferimento basso ma diciamo che volevo partire molto modesto e quindi diciamo che se il tuo messaggio è rilevante troverai sempre un audience disposta a seguirti questo è vero in termini religiosi, è vero in termini politici ed è vero anche in termini tecnologici barra sociali perché comunque tutto possiamo dire ma ormai la tecnologia non è più tanto un device ma è in realtà un nuovo modo di vivere quindi come vi dicevo ogni marca ha da sempre fantastiche storie da raccontare alla sua audience storie diverse, qui volutamente sono partito dai prodotti e dai servizi che sono volutamente scritti più piccoli arrivando a quelli che sono i concetti più ampi, bisogni, qualità, innovazione noi non dobbiamo pensare che facciamo un lavoro figo quando raccontiamo l'innovazione e la qualità e facciamo un lavoro diciamo semplicemente tattico quando andiamo a raccontare prodotti e servizi perché comunque diversi sono i brand, diversi sono le esigenze l'importante è fissarli, essere onesti con la marca e lavorare dentro il perimetro di brief che ci è dato ma che possiamo anche reinterpretare, su cui possiamo anche rilanciare proprio perché spesso, vi dico la verità, il brief che ci ha dato Meridia al di là di tutto avercene di brief così, avercene di persone che comunque riescono a parlarti della loro iniziativa impreditoriale del loro mondo, dei propri valori per un'ora e mezza normalmente trovi controparti che ti mandano, a me spesso arrivano brief di quattro righe cioè dicendomi vogliamo fare questo ma anche quell'altro è chissà e abbiamo pochi soldi, questo è sì, confusi esatto, cioè da questo punto di vista apro una parentesi ma la chiuso su, biografica ma diciamo onesta nei vostri confronti lavorare, fare branded content vuol dire raddoppiarsi la possibilità di rotture di scatole nel senso che per chi come me viene dalla televisione normalmente hai diciamo dieci rotture di scatole cioè devi, hai un brief chiamiamolo così da una rete devi interpretarlo, devi costruire un format che torni alla rete e esaudisca le sue esigenze quando lavori con il branded content questo problema si raddoppia e non è una somma matematica, è una somma algebrica cioè che diventa quasi una moltiplicazione all'ennesima potenza perché poi non solo devi soddisfare gli uni, i brand e gli altri, le reti ma nel momento in cui come prima diceva Alessandra giustamente le esigenze arrivano a toccarsi spesso retroagiscono un po' come una reazione chimica che non è mai data semplicemente dai due ingredienti ma da quello che succede quando i due ingredienti si combinano idrogeno e ossigeno non sono idrogeno e ossigeno quando si uniscono diventano acqua quindi per dirvi come ci vuole del lavoro di mediazione ci vuole del lavoro di pensiero ci vuole del lavoro di strategia però che è diverso ogni volta perché ogni brand è diverso ogni rete è diversa e lo stesso brand come vedete l'esempio di Barilla prima può avere l'esigenza di vendere più pasta ma può avere anche l'esigenza di qualificarsi come in qualche maniera portavoce della buona nutrizione è però interessante vedere come le cose siano cambiate e quindi ciò che era più facile sino a un po' di tempo fa oggi è più difficile ma anche più divertente cosa vuol dire questa slide? vuol dire che nel 1957 la televisione italiana terminava praticamente per una parte della propria audience alle 8 e mezza, 9 quando finiva Carosello non mi ricordo esattamente che era finita e quindi la pubblicità era interessante ma era comunque una forma di comunicazione codificata poi abbiamo vissuto gli anni d'oro della pubblicità come scusatemi della comunicazione come pubblicità dove era tutto gridato spinto c'era un atteggiamento positivistico negli anni 80 si pensava che sono gli anni d'oro della pubblicità si pensava a cosiddette magnifiche sorti e progressive che domani sarebbe comunque stato meglio di oggi ci sarebbero stati più soldi e quindi si spingeva questa cosa ad oggi siamo arrivati ad una situazione complicata che non è solo che ci sono meno soldi ma che gli strumenti di comunicazione classici non funzionano più questo è un dato americano che solo il 18% delle campagne tv generano ritorno di investimento positivo e il gesto che non so se possiamo mandare in streaming al limite lo bleriamo è abbastanza sintomatico in questo senso sì l'ho fatto più piccolo no perché pensavo che non fosse chiaro allora ho detto ripetita Juvent mi interessa soprattutto perché vorrei che vi portaste a casa tre take away alla fine di questa prima parte che sono di scenario ma sono anche di lavoro il primo è tutti i brand comunque stanno cercando nuove forme di comunicazione questo è il primo il secondo non solo cambiano le marche ma cambiano anche il pubblico quindi e tra l'altro in Italia questo è un dato interessante la profilazione dell'audience e il cambiamento delle abitudini di fruizione è spesso più avanguardista che in altri paesi cioè noi siamo indietro in termini di strumenti per poter godere della nostra voglia di web non abbiamo la banda larga non abbiamo il wifi però in termini di propensione dati quali l'aumento degli smartphone l'aumento del tempo di permanenza tra pc e tablet e comunque fuori dalla televisione la crescita del consumo di video online fanno diventare l'Italia in realtà uno dei paesi europei più avanguardisti e quindi il confronto con i trend americani che dicono che negli ultimi tre anni la crescita del consumo del video online è incrementata del 74% non sono più lontani chimere ma lasciano intravedere una tendenza che nei prossimi tre anni sarà anche in Italia con tutte le zavorre che ben sappiamo di una tecnologia non ancora pronta ma sappiamo benissimo che quando c'è la propensione appena arriva la tecnologia le dinamiche di fruizione cambiano guardate con il digitale terrestre probabilmente tutto quello che è cambiato in televisione è il risultato sì di una tecnologia che ha ampliato l'offerta però è anche il risultato di un audience che per la sua maggior parte era già scontenta prima di tutto quello che dava la televisione ed è stata immediatamente pronta a cogliere le nuove opportunità date da Sky barra dal digitale terrestre comunque era vorace è stata immediatamente vorace di nuovi contenuti televisivi non dimentichiamoci che pre e post digitale terrestre noi abbiamo circa un 35 40% potenziale di target che si è spostato dal duopolio Rai Mediaset a il resto Sky vale l'8% di share e l'insieme di tutte le altre vale altro circa 7% quindi vuol dire che c'è un 15% di share che sostanzialmente è da catturare ed è quello che cambia le dinamiche di mercato perché se le concessionarie prima potevano vendere ad un certo prezzo perché potevano vendersi un 40% in prime time adesso se riescono a raggiungere il 25% è già tanto dentro un mercato che spende sempre di meno capite benissimo come il circolo che prima era virtuoso per pochi ma virtuoso diventa vizioso anche per quei pochi che prima diciamo sostanzialmente potevano goderne il terzo takeaway è dentro un mondo che cambia dove i brand cercano nuove comunicazioni e il pubblico le audience cercano nuovi tipi di contenuto una cosa rimane sempre uguale che le buone storie funzionano e queste buone storie se non le cerca le televisioni le cercano soprattutto le brand perché non possono farne a meno in quanto attorno alle storie le marche hanno sempre costruito la propria percezione e il proprio posizionamento sì prego no nel senso che la storia di un brand come il suo mondo dei valori sono il punto di partenza di quello che ti chiedono perché comunque il brand ha un patrimonio normalmente di anni di storie che ha raccontato il problema è che come la televisione le storie che ha raccontato sino ad oggi adesso non funzionano più non funzionano più né come interpreti quindi né da un punto di vista editoriale né da un punto di vista di linguaggio quindi detta male cercano un modo diverso per raccontare sempre la stessa cosa detta bene nel caso di brand evoluti cercano un modo nuovo per raccontare una storia nuova esatto esattamente per questo si parlava stamattina della rinuncia dei testimoni alla ricerca anche di nuovi interpreti e poi non dimentichiamoci che il canale dove vai cambia la comunicazione che fai un conto è andare in televisione con uno spot un conto è andare sul web con una web series tra l'uno e l'altro c'è un mare magnum ciò che funziona da una parte dall'altra viene immediatamente rifiutato e siccome ormai alla fine è il pubblico che lo chiami pubblico che lo chiami consumatori che lo chiami audience è comunque chi deve guardare o comprare che decide ormai al di sotto dei 25 anni la televisione non la guarda più nessuno tra i 25 e i 40 la guardano poco e quindi comunque indipendentemente dal consumo di internet quello che è importante è che internet ha affermato un nuovo modo di parlare e una marca che parla solo con lo spot è come se non parlasse o parla solo agli over 40 che però non sono le fasce di mercato più importanti su certi prodotti sul grande consumo magari sì le responsabilità di acquisto le mogli le madri le casaligne ma su brand che vogliono costruirsi delle strade diverse o che incidono su diversi target ormai non è più possibile parlare solo in quel mondo ci sono brand che proprio non fanno più spot o lo fanno come accessorio mentre prima lo spot era intanto faccio lo spot e poi faccio il resto no intanto faccio il resto e poi capisco come fare lo spot anche perché gli spot purtroppo cioè purtroppo per fortuna l'industria attorno agli spot ha subito dei cambiamenti una volta se non avevi 400.000 euro non cominciavi nemmeno a fare uno spot adesso si comincia a ragionare anche diversamente magari fai una cosa è successo anche a noi di fare una cosa che va sul web e poi è talmente bella che diventa uno spot non sarebbe mai successo fino a tre anni fa perché hanno proprio chi di voi ha lavorato in un'agenzia di pubblicità o o in una società di produzione che fa spot lo spot lo chiamano il film per darvi l'idea di quanta liturgia c'è attorno cioè e la liturgia è la cartina al tornasole di un investimento economico il film tu non chiameresti mai il film una cosa che costa 15.000 euro invece una cosa che costa 400.000 euro sì a proposito se avete domande interrompete perché non vado veloce quindi ne abbiamo già parlato nel senso che sostanzialmente qual è quindi lo scenario nuovi media nuove audience nuovo brand e nuovo mercato quindi uno scenario in continua mutazione la parte sinistra del del mondo l'abbiamo già raccontata la parte destra è interessante ed è interessante per voi nel momento in cui vi mettete a ragionare rispetto a un brief cosa vuol dire vuol dire che ormai questi questi quattro rettangoli sono le cose che qualunque brand anche meridia in realtà ha nel suo retrocranio cioè cosa vuole poi la declinazione sarà diversa ma cosa vuole si aspetta anzitutto un progetto multimediale famoso distribuzione dei contenuti no poi si aspetta un progetto profilato su un target non mainstream ma nonostante che abbia una logica che ragiona rispetto è meglio un bel progetto verticale per le aziende per la maggior parte delle aziende oggi che un progetto orizzontale che tramite che è un do coio coio cioè perché ma perché perché ormai anche lì la cultura internet è una cultura che lavora molto sulle passioni sulle community sui verticali quindi in realtà anche le classiche categorie con cui definiamo i target che sono quelle sociodemografiche donne uomini 25 40 in realtà si possono molto meglio ricostruire attorno alle passioni quindi se tu intercetti una passione o un bisogno comunque qualcosa che ti rimane attaccato e che ti colpisce alla fine fai il tuo il tuo lavoro poi il tema delle metriche dove siamo parte di un mondo che deve trovare nuove modalità di misurazione un po' meno quantitative e un po' più qualitative e quindi format sperimentali l'80% se non il 100% dei case che vi ha fatto vedere Alessandra stamattina alla fine sono dei case che visti adesso magari del 2007 case di 2007 2008 dici ti sembrano un po' così ma perché sono passati cinque anni in cui abbiamo visto tanto di quello se voi ritornate con la memoria del 2007 fare per fiducia al di là che possa essere buono o cattivo è comunque un atto di forza un atto di intelligenza più che il progetto di MTV per non dire The Ayer nel 2001 che secondo me è un progetto talmente figo che probabilmente un po' di inconsapevolezza c'era nel senso che è la classica cosa che fai per primo e poi per strada raccoglie interesse ma all'inizio io non credo che ci fosse tutta questa splendida strategia nonostante fosse lo BMW di dire parto col corto e poi arriverò anche in televisione diventerà addirittura un progetto che tutti si ricorderanno un piccolo una piccola overview sullo scenario di mercato per darvi anche degli elementi di speranza no di consapevolezza allora l'investimento è anche per darvi la razio del perché le aziende cercano dei format multimediali non è che perché improvvisamente sono diventati tutti fenomeni è vero che è cambiato una generazione di marketing manager che trovi un marketing manager un marketing director quarantenne è diverso che trovare un marketing director 50 o 55enne però il tema è che quelli che sono i media classici stanno terribilmente perdendo e il tema non è solo il calo dell'investimento medio ma che sempre minore numero minore di aziende sono sempre di meno le aziende che investono sui media tradizionali e l'ultimo capoverso è fondamentale perché noi come azienda zodiac ma in generale tutti quelli che lavorano nell'audiovisivo stiamo scommettendo su una cosa immediata cioè che questo trend del video online nei prossimi tre anni esploderà per due motivi perché per l'aumento dell'utilizzo da internet da dispositivi mobili e la sempre maggiore abitudine quindi di vedere il video una volta esisteva una liturgia pensiamo al cinema il cinema è liturgico per eccellenza come il teatro lo vedi solo in un luogo la televisione ha cambiato completamente le logiche di fruizione ma comunque chi è nato come me nell'epoca d'oro della televisione aveva comunque una micro liturgia di sedersi su un divano e guardarsi un telefilm per 45 minuti adesso questa cosa qui non esiste più non esiste più la logica dell'agenda dettata dall'editore esiste la logica che ognuno ha una propria agenda e si guarda quello che vuole dove vuole e quindi è tanto più difficile da intercettare se non con contenuti di qualità legati alle proprie passioni questo è diciamo la traduzione in pratica diciamo dell'andamento del video online nei prossimi la previsione attesa come vedete insomma di un quasi raddoppio del business questo se volete potete usarla stasera per spiegare chi vi vede perché della vostra stanchezza allora è molto bello e rassicurante tornare da una mamma soprattutto chi come molti di voi magari è una mamma pugliese rock che gli fa le orecchiette capito col Jack Daniels ma in realtà guardare indietro purtroppo nonostante sia molto rassicurante non è mai la scelta migliore soprattutto in questo periodo la verità è quello che stiamo cercando di fare noi tutti che ci lavoriamo e anche voi che vi state confrontando con dei brief quindi riorganizzare strategie modelle metriche approcci e obiettivi bene allora questa è secondo me importante perché è una slide che riunisce il mare magnum di tutte le brand che potete comunque potete trovare davanti però è veramente il dilemma con cui si mettono sotto le coperte praticamente tutti i brand manager o i marketing manager ad oggi perché come dicono i sociologi è un cambio di paradigma cioè prima come diciamo da diciamo come cambio di paradigma non è il sole che gira attorno alla terra ma è la terra che gira attorno al sole è una cosa così perché comunque bisogna ragionare leggetelo diciamo dall'alto verso il basso tendenzialmente ragionare strategicamente rispetto al ruolo di diversi tipi di media dove non è più il peso ma è la qualità non è detto che la televisione sia sempre il luogo giusto dove comunicare non è detto che la stampa sia sempre il luogo giusto dove comunicare non a caso ad esempio c'è un ritorno ad una modalità di comunicazione che per molti anni soprattutto nei primi anni della crisi del decremento era stata la prima ad essere abbandonata perché è tendenzialmente costosa che è la comunicazione sul territorio il field l'evento la festa che era stata era molto anni 80 e aveva anche permeato molti dei primi anni 90 io mi ricordo quando lavoravo a MTV uno magari non sapeva nemmeno cosa faceva a MTV che feste che fa a MTV che concerti cioè una generazione si ricorda un marchio e enjoy yourself your body and your soul capito come se perché l'evento ne parlavamo stamattina parlando dei Wind Music Award o degli Anneken Jamie Festival è stato il modo con cui spesso brand importanti e danarosi hanno a spallate delimitato un loro territorio pensate a coca cola cioè coca cola quando abbiamo iniziato a lavorare con loro nel 2002 avevano un problema che il mondo della musica era di pepsi e essendo il mondo della musica perché pepsi da molti anni negli stati uniti non lavorava e anche in italia iniziava ad entrare con michael jackson con britney spears con il mondo oltre non a caso è stato il primo brand che si è associato ad x factor perdendo quel mondo perdevano un target fondamentale che era quello più giovane e venivano percepiti come il soft drink dei vecchi o consumato senza emozione si vabbè dammi la coca mentre pepsi emergeva come una scelta quasi controcorrente valoriale cool no quindi a quel punto di dicono qual è il territorio che per definizione puoi darmi coolness una una vesti un po più giovane anche diventare un po più vicino al mio consumatore è la musica e nel corso di otto anni di coca cola live tv se tu guardi le ricerche che loro hanno fatto cioè piano piano lavorando 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 alla fine sono riusciti a riposizionare tu non penseresti mai che coca cola un brand come coca cola avesse problemi di posizionamento ma li aveva e attraverso il primo branded content anti litteram diciamo parzialmente illegale della televisione italiana abbia ha ottenuto quel risultato perché la gente si ricordava assi il coca cola live assi il concerto di coca cola assi il concerto dove si beveva ecco fare quel quel percorso quindi per dirvi come il gli eventi che stanno tornando perché torna il tornano ad essere ripensati diversi media quindi magari si dice piuttosto che fare una campagna in televisione faccio un evento oppure l'evento inteso magari in maniera diversa non più la grande liturgia la grande messa no del concerto in piazza ma magari il flash mob magari guerriglia marketing magari l'ambush marketing fatto come disturbo dentro una situazione ufficiale però la necessità di essere un po più fisici no e non solo virtuali poi ribilanciare ovviamente tempo e risorse rispetto al nuovo quadro di mercato di audience e sviluppare una chiara strategia attraverso ai nuovi ambienti media condivisi perché non dimentichiamoci che il grosso cambiamento di internet è che tu puoi comunicare spendendo di meno o molta più gente ma c'è anche molto più gente che può mandarti a quel paese se sbagli senza mediazione perché se tu prendi la fan page di un brand chiunque è iscritto a quella fan page certo magari lo cancellano dopo due ore però in qualche maniera può esistere traccia di una protesta che in tempi passati poteva essere in qualche modo mediata tamponata ragionata quindi tanto più dai la comunicazione tanto più ti torna indietro da ogni punto di vista e quindi la cosa più piacevole per noi è che sempre più brand vivono il marketing come un ambiente in cui sperimentare e dosare non esiste ancora diciamo quella spinta che porta ad esempio negli Stati Uniti o in UK ad essere veramente disruptive come dicono loro però ci stiamo piano piano arrivando ieri sera raccontavo dei vostri alcuni di voi che tre anni fa quando passò la legge sul branded content andavi nelle aziende non sapevo nemmeno pronunciare cioè quando ci provavano c'era un problema partiva il molare capito adesso caro figlio dice che finché le cose non si riescono a dire non esistono adesso si riescono a dire ed esistono e sono parte di una coscienza poi non è detto che tutti i brand abbiano il coraggio di arrivare fino in fondo ma hanno un mindset che gli permette di ragionare bene su questo tipo di progetti ah scusami sì perché non è un messaggio promozionale se tu devi la differenza è che mentre quando sei dentro un ambiente spot devi mettere messaggio promozionale quando sei in un ambiente branded content devi mettere un messaggio informativo cioè informativo che no la legge dice in testa e in coda e a ogni rientro da nero sì in realtà devi però sul branded content devi metterlo cioè quando fai programmi televisivi cioè non esiste una disciplina siccome vi parla di legge no il branded content cosa no 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 non parla diciamo che non esiste una legge sul branded content il branded content come disciplina legislativa fa riferimento al placement e quindi anche se non lo se è qualcosa di diverso no però se tu fai un programma televisivo di branded content che ha anche del placement dentro comunque essendo quella legge che guida tu in ingresso in coda e ad ogni ritorno da nero devi mettere non c'è bisogno della placement cosa se non ha placement no ma è impossibile provate a pensare a Illy ne parlavamo prima no ha una percezione molto più alta molto più estesa anche io sono rimasto a bocca aperta quando mi hanno detto che erano il 3% del mercato in Italia per me era un brand che in termini anche di fatturato di tenete conto che Illy ha un solo stabilimento a Trieste dove fanno tutto per tutto il mondo costa tanto sì sì però tu sarà perché nei vari canali no cioè a scaffale tu ti accorgi che costa tanto perché ti metti lì e dici barattolo di Illy e barattolo di Verniano Saucaffè o qualche e lì te ne accorgi è vero che costa tanto però se cominci ad unire il fatto che ci sono i barilli il fatto che vedi la comunicazione il fatto che hai sentito della mostra il fatto che su National Geographic hai visto hai una percezione di un brand che è molto più popolare di quello che in realtà è sì qui è molto diverso è vero ci sono ci sono questo è vero in Puglia sì è vero no no difatti Illy è sicuramente un brand molto più del nord che del sud insomma sì qua proprio trovi hai ragione tu delle torrefazioni che esistono solo in una zona e non in un'altra quindi insomma quello è è tipico qui del 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 luogo allora arriviamo abbastanza presto a quello che mi interessa per voi quindi il fatto che ormai la scelta di comunicare un mondo non è più scusate il gioco di parole una scelta ma è praticamente un obbligo perché ormai la logica d'acquisto se è fatta secondo una logica puramente funzionale in questo momento è la logica del prezzo quindi anche brand che vogliono che hanno sempre avuto diciamo non hanno mai avuto problemi di vendere e non sono mai state percepite come brand care comunque per essere comprate devono far percepire chiaramente anche attraverso i messaggi che spendere quell'euro o spendere quei due euro è per avere qualcosa di più di un semplice prodotto faccio esempio Barilla nessuno magari pensa che Barilla possa aver avuto o forse uno magari dei brand meno colpiti dalla crisi ma in realtà è stato colpito molto fortemente anche in Italia pensate che la maggior parte della vendita di Barilla negli ultimi anni si è spostata dal consumo classico vado al supermercato al consumo in promozione cosa vuol dire che loro vendono pasta quando il supermercato o l'azienda fa una promozione e dice compra 10 pacchi però il problema è che questo droga da un lato i volumi di vendita sulla promozione ma poi crea dei buchi durante l'anno mentre prima era un acquisto quotidiano non dico quotidiano ma settimanale andava al supermercato e comprava la pasta e quando comincia a cambiare così diventare così discontinuo il consumo su dei beni come la pasta figuratevi su quelli che sono dei beni di consumo chiamiamoli voluttuari quindi non a caso Barilla negli ultimi anni ha cercato con tante iniziative di avvio avvicinarsi ai consumatori non solo con la leva del prezzo su cui comunque al di sotto di un certo livello non può andare perché altrimenti svilisci il prodotto il problema è che se tu compri un prodotto solo in promozione vuol dire che non ne percepisci il valore oltre quello del prezzo quindi hanno cercato hanno fatto delle iniziative molto importanti sul territorio con non so se sono stati anche qui però hanno fatto casa barilla che era questa casa itinerante con cui invitavano le persone diciamo a gustare la pasta c'erano dei corsi di cucina era un luogo anche di aggregazione anzi più di aggregazione che non di vendita il tutto per comunicare un mondo di valori che non sia solo nel prodotto ma che sia soprattutto al di fuori di esso e qui arriviamo diciamo alla slide fondamentale poi mi fermo se ci sono delle domande me le fate e poi andiamo ai brief nel senso le categorie rispetto a cui le persone giudicano i brand e quindi organizzano le proprie decisioni di acquisto e il proprio approccio atteggiamento verso le marche sono cambiate e sono e non possono più prescindere da tutta una serie di categorie che chiedono un dialogo e non semplicemente un trasferimento in positivo del messaggio di comunicazione provate a pensare a brand ai problemi che hanno avuto brand importanti come nike come nestle come recentemente findus nel momento in cui nonostante il prodotto sia pur nel loro segmento di qualità abbiano una reputation quindi una dimensione di percezione sicuramente non bassa siano aziende estremamente attente pensate a quanto male può fare in un mondo come quello in cui siamo adesso nel quadrante superiore la mancanza di una responsabilità diciamo civica o sociale nel quadrante inferiore l'incapacità di essere forti in termini di immaginazione e di innovazione abbiamo visto red bull prima red bull è un brand che ha fatto dell'immaginazione dell'innovazione la propria forza tanto che avete visto l'ultimo spot tu il prodotto lo vedi alla fine red bull ti mette le ali però fin dal primo spot fin dal primo frame al di là che l'astronauta che si butta giù abbia il logo red bull però tu sai che quella roba lì non solo è red bull ma può essere solo loro e quindi la bravura di lavorare su queste su queste dimensioni che appunto creano una relazione tra brand e pubblico basata sulla fiducia sull'ascolto per cui come si diceva stamattina dicevo giustamente alessandra alla fine non solo il prodotto diventa uno status symbol ma chiunque lo beve diventa automaticamente brand ambassador del perché ecco nessuno di noi adesso magari un po di meno però comunque provate a pensare cosa qual era la cultura sugli energy drink in italia fino a dieci anni fa e cos'è adesso ed è sono talmente forti che chiunque ha cercato di entrare in quel segmento tra cui anche coca cola che non è proprio diciamo l'ultima arrivata non ce l'ha fatta perché hanno costruito grazie a sono stati i primi sono stati i più bravi e hanno veramente blindato l'immaginazione delle persone per cui l'energy drink è solo red bull e non c'è più spazio per nessuno è una strategia vincente che coraggiosa e importante quindi nel nostro piccolo dobbiamo cercare di fare questo con qualunque brand a cui ci approcciamo cioè non dimenticare che c'è una dimensione chiamiamola etica e sociale con cui ci dobbiamo sempre confrontare e non abbassare mai per primi noi le aspettative del progetto in termini di immaginazione ed innovazione una vecchia regola ma sempre valida sempre più valida è quella lasciate che sia il brand a dirvi che siete troppo bravi non siate voi stessi per primi a dire non cercate l'idea giusta cercate anche l'idea sbagliata ma coraggiosa perché se va bene fate una gran figura e vi comprano l'idea che nemmeno loro avevano pensato che poteva andar bene se vi va male comunque quell'idea coraggiosa vi permetterà di vendere l'idea giusta ci siamo più o meno dubbi allora i prossimi passaggi sono vi spiego vi rifaccio brevemente la storia di una case history che abbiamo fatto come zodiac una sola visto che c'è poco tempo e poi vi lascio con i tre brief diamo un po di tempo così se avete domande questo per due motivi uno perché ripercorro un po quello che è il problema di fronte al quale ci troviamo ogni giorno un brand ci parla ci chiede qualcosa come trovare la soluzione sui problemi e poi invece vi lascio con tre domande che sono tre brief voi scegliete all'interno dei vostri gruppi uno di questi su cui lavorate e se avete domande dubbi come nel caso di meridia eccetera me le fate cerchiamo di darvi le risposte in maniera tale che possiate lavorare bene allora la case history che vi presento riusciamo ad uscire di qui e aspetta scusa scusa andiamo in presentazione la manianda qui allora la case history che vi che vi presento è quella relativa a jack daniels allora jack daniels è un case history interessante per almeno un paio di motivi tutti voi conoscete cosa è jack daniels allora la risposta a questa domanda è la dimostrazione pratica che non è un brand che ha bisogno di essere conosciuto è già conosciuto da tutti non solo è conosciuto ma è associato ad un mondo estremamente particolare caratteristico e anche divertente stimolante che quello in qualche maniera del rock and roll no degli stati uniti quindi è un brand forte allora a un certo momento loro si sono trovati con dei problemi in italia diciamo anche livello internazionale ma in italia e la domanda che c'è stata fatta è questa noi non abbiamo bisogno di awareness quindi non abbiamo bisogno di essere conosciuti però stiamo progressivamente diventando una icona e non un prodotto ci sono brand che pagherebbero fior di soldi per diventare un'icona dici caspita ma cosa c'è di male diventare un'icona il problema è che se non controlli quel percorso diventi diventi qualcosa che la gente appende al muro ma non ma non si mette addosso e non beve cioè diventi quasi altro da te no diventi qualcosa anche un po giustamente dice vintage no che non è contemporaneo che non è esatto che e quindi stai a morì quindi come provare a rispondere a questa esigenza di comunicazione molto alta cioè dire ragazzi noi qui abbiamo un problema dobbiamo tornare ad essere vicini al nostro target noi abbiamo risposto costruendo un progetto che si chiama jack on tour che preesisteva come naming ma che è stato negli ultimi tre anni rivisto dove sostanzialmente abbiamo cercato di mettere insieme tre cose con l'obiettivo di ravvicinare il target all'azienda e al prodotto diciamo il riferimento agli stati uniti che comunque sono parte della loro storia ed è importante che rimangano sempre diciamo come riferimento due però una declinazione italiana a questa vocazione diciamo statunitense a questa diciamo vicinanza con il rock and roll e tre una progetto di comunicazione che permetta sostanzialmente di lavorare su questi tre asset ingaggio fai qualcosa fai qualcosa con me non tanto per me il passaparola quindi la voglia di costruire in questo caso degli eventi che la gente a cui voglia partecipare e che voglia raccontare e poi far tornare non solo la fan base ma già acquisita ma nuove persone come parte di una comunità in una comunità poi non dimentichiamoci che stiamo parlando di un super alcolico e quindi tutto deve essere estremamente pulito privo di prodotto e sostanzialmente soprattutto scevro da qualunque incentivazione al consumo vi faccio vedere una clip che così bevo e soprattutto perché riassume un po i primi due anni del progetto il primo anno l'idea di base è stata jack denis deve regalare qualcosa di unico quindi l'idea è stata jack denis regala ad una rock band italiana la prima chance di una tournée negli stati uniti abbiamo scelto una delle poche tra virgolette band effettivamente rock o comunque riconosciute come rock band in italia che erano in egrita e abbiamo jack denis ha regalato in egrita la chance di un della prima tournée negli stati uniti che è diventato un programma televisivo sono diventate sei puntate nel senso ogni tappa no abbiamo fatto le capitali del rock ma cercando coerentemente con quanto accennava lui di non essere vintage quindi abbiamo beccato delle città che in parte raccontassero la storia del rock and roll in parte raccontassero anche l'odierno rock and roll quindi certo los angeles certo san francisco ma ok anche new york che comunque è contemporanea per eccellenza anche se non è normalmente riconosciuta come la patria del rock più ma più magari di un rock un po più intellettuale un po più sfrangiato un po più sfumato e anche seattle che ovviamente è forse la città che più ha rinnovato con il movimento appunto grande la storia del rock per poi toccare anche le radici cioè quello che sta dietro il rock quindi memphis e nashville perché è una cosa è stato è un progetto importante perché ha portato dei risultati positivi altrimenti non avrebbero continuato a rifarlo che non sono semplicemente il fatto che hanno che sono riusciti ad andare incontro tendenze in un mercato del whisky che sta perdendo quote ma che effettivamente sono riusciti a riposizionarsi per come volevano il numero di fan ad esempio nella fan nella fan page di facebook è raddoppiato insomma ci sono tutta una serie di dati che fanno sì che quindi vi faccio vedere il video perché è piacevole ma soprattutto per farvi vedere come due cose mi interessa che vi portiate a casa e poi andiamo agli altri brief uno attenzione ad essere umili quando ci si approccia ad un brand e cercare di capirlo bene ve lo dico per esperienza personale perché jack denis può sembrare un brand facile america rock and roll polvere asfalto sì cioè in realtà c'è dietro un mondo e tanto più un brand è in grado di dire delle cose e di dirle nel proprio modo tanto più è delicato quando vai a lavorarci in generale attenzione a cercare anche con meridia non voglio il paragone non vi sembri veramente specioso cioè è corretto è interessante capire cosa loro vogliono fare perché fanno tante cose però come meridia fa tante cose vuole comunicarne tante ugualmente una qualunque marca tende a dirvi voglio una cosa che sia gialla ma anche rossa ma anche un po azzurra e dovete essere voi bravi a restituire ok tu mi hai detto questo ma io ti dico cosa ho capito e cosa va bene per te perché le brand sono come le televisioni sanno bene tanto cosa non vogliono ma non sanno quello che vogliono spesso quindi dobbiamo essere noi a provare ripeto in maniera coraggiosamente di gente a dargli la scelta quindi le due cose sono queste siate umili e cercate di capire il brand da dentro e due non castratevi almeno in una prima fase nel tentativo di portare il progetto a 360 gradi perché ripeto poi magari la marca l'azienda può decidere di prendere dei pezzi del vostro progetto di comunicazione ma lavorare su tutti i canali è una buona dimostrazione la famosa prova del 9 che l'idea che portate la content idea è forte perché sa tenere testa su tutti i canali e due che comunque vi aiuta ad essere potenti nel progetto perché tante volte nel momento in cui vi trovate a declinare un'idea su un canale vi vengono delle suggestioni che vi possono servire da un'altra parte perché ogni attivazione è comunque un esercizio dialettico per cui si cerca di capire quanto l'idea che è diciamo l'idea principe può funzionare poi alla pratica diciamo della declinazione andiamo speriamo che funzioni ve lo canto al limite non va un'esperienza esclusiva davanti dietro il palco oltre il palco questo è quello che loro volevano portare a casa l'ultima cosa che vi dico relativamente a Jack Daniels è la forza di un'idea quando l'idea è forte tiene nel tempo quindi Jack on tour regalare un'esperienza unica fuori sul palco e dietro al palco il primo anno la declinazione il primo anno regalare e negrita la possibilità della prima tournée americana quindi usiamo in qualche maniera una logica più testimoni all'oriented no come parlavamo prima il secondo anno il brand dice ok ho fatto un passo ma voglio essere ancora più vicino quindi trovare un meccanismo che ingaggi non solo il consumatore il fan verso un testimonial ma che lo ingaggi in quanto musicista e quindi regalare ad una giovane band italiana la possibilità di andare su una strada mitica la route 66 con un gruppo che rappresenta non un gruppo qualunque ma il gruppo che è il gruppo più longevo in Italia nel campo del rock and roll perché il gruppo in attività storicamente più longevo al momento sono i litfiba ma come sapete i litfiba si sono sciolti quindi gli after hour sono l'unico gruppo che pur nei cambi di formazione sin se non sbaglio dal 1987 potrei dire una stupidata ma comunque insomma è praticamente sulla strada ed ha sempre avuto delle caratteristiche che sono molto vicine a quelle del brand integrità rispetto della tradizione etica rispetto a come si costruisce la musica e la propria carriera musicale quest'anno non vi faccio vedere la clip per questioni di tempo ma mi interessa l'evoluzione del ragionamento abbiamo fatto quindi scusate non quest'anno l'anno scorso quest'anno non lo so ancora però l'anno scorso abbiamo fatto nel momento in cui Jack Daniels prima regala un'opportunità esclusiva ad una band poi ad un proprio consumatore alla fine diventa talmente forte e potente che può costruirsi una sua band e quindi le esperienze dello scorso anno Jack on tour è stato making the band Jack Daniels ha formato una band con tre musicisti italiani di livello che sono Federico Poggi Pollini il chitarrista di Liga Bue Roberto Dell'Era il bassista degli After Hours e Sergio Carnevale batterista dei Blue Vertigo e dei Baustelle quindi è talmente forte e autorevole è riuscito a fare questo percorso nel campo della musica da poter diventare etichetta non solo su una bottiglia ma anche etichetta musicale e quindi ha l'autorità per poter timbrare una cosa che prima non c'era una nuova band tenete conto che questa band ha fatto ovviamente un tour in Italia di varie tappe e in ogni concerto proprio perché per Jack Daniels è importante la musica suonata e non solo ascoltata ha raccolto sul palco una guest star d'eccezione che suonavo o cantava con loro quindi perché il tema della jam session per loro è importante quindi ad esempio a Firenze c'è stato Piero Pelù poi abbiamo avuto Cristiano Godano a Milano abbiamo avuto Andy dei Blue Vertigo a Milano sempre lui poi avevamo a Torino Bunna e i Casino Royale poi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto Manuel Agnelli e Cesare Basile a Catania insomma ecco è stata una bella esperienza quello che mi interessa è sempre relativamente alla prova del 9 delle idee se un'idea è forte non solo riuscite a declinarla bene orizzontalmente ma vi dà l'idea di poter tenere nel tempo fino a qua ci siamo conto brevemente vi rinvieremo via mail e quindi insomma potete ragionarci un po' con calma adesso mi interessa dirvi semplicemente che potete scegliere a fianco del brief di Meridia tre brief che attengono a tre aziende importanti diverse l'una dall'altra proprio in maniera tale che voi possiate lavorare su quello che sentite più vicino sono diverse come prodotto sono diverse come sono tutte importanti però tendenzialmente leggermente diverse come importanza la cosa che vi voglio dire ma giusto perché se uno stimolo in più a voi è che sono brief veri non sono brief inventati quindi non sono simulazioni sono brief effettivi che attengono alle strategie di comunicazione di queste aziende per questo vi chiedo al di là che siamo in streaming un minimo di riservatezza sulle cose che vi racconto e sulle cose che riceverete via mail perché sono brief attuali non sono brief dell'anno scorso inventati di sana pianta giusto perché vuole essere un modo per stimolarvi a lavorare dentro quello che sta succedendo come se effettivamente foste voi i co-op, gli arti, i filmmaker, i creativi insieme a me attorno a un tavolo a cercare le idee per queste aziende la prima azienda è Canon ed ha un obiettivo molto interessante dimmi va bene meglio sarebbe se preferirei se grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti